Buonasera a tutti, benvenuti al Consiglio Comunale del Comune di Fontanaliri. Un saluto a tutta la cittadinanza e ringrazio idee avanzate per la diretta streaming nelle persone di Vittorio Casciano e Francesco Marra. Ringrazio i giornalisti Casciano sempre presenti. E prima di dare inizio ufficialmente al Consiglio Comunale vi chiedo di osservare un minuto di silenzio per la scomparsa dell'ex Presidente del Consiglio, attuale senatore. Grazie. Grazie. Scusate la distrazione ovviamente per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Adesso chiedo al Segretario che saluto di fare l'appello. Buonasera a tutti. 21 e 21. Barbara Battisti Presente Saracco Bianchi Perluigi Assente Giannetti Emanuele Assente Grimaldi Cristiano Assente Iafrate Assente Perciballi Davide Assente Rauso Assente Battista Giuseppe Loreto Assente Rossana Evangelica E Davide Simoni Numero legale Sì, procediamo con la nomina degli scrutatori Evangelisti Rauso Iafrate E passiamo al primo punto all'ordine del giorno L'approvazione dei verbali della seduta precedente Mi riferisco ai verbali consigliari 18 e 19 adottati nella seduta del 29 maggio 2023 Qualcuno vuole dire qualcosa al riguardo? Bene, vi chiedo di votare per l'approvazione. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Votiamo ora per l'immediata esecutività? No, va bene Chi si astiene? Chi è favorevole? Contrari? Il secondo appunto all'ordine del giorno prevede l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 secondo l'articolo 151 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e l'articolo 10 del decreto legislativo numero 118 del 2011 Cedo la parola al sindaco Buonasera a tutti Buonasera a tutti Questa sera portiamo in discussione il bilancio di previsione 2023-2025 con alcune premesse intanto l'ente non è in disavanzo, non è in piano di riequilibrio, non è in dissesto finanziario Portiamo un bilancio di previsione che per grandi linee ricalca anche quello degli anni precedenti con alcune novità che poi andremo ad evidenziare Intanto evidenziamo e segnaliamo che il comune lente nella gestione del 2022 e anche fino alla data odierna non ha fatto mai ricorso all'anticipazione di cassa Quindi questo evidenzia che in buona sostanza il comune riesce a sopperire alle proprie spese coprendole in termini di competenza e cassa Quindi questo evidenzia che il bilancio e i bilanci anche precedenti sono essenzialmente veritieri in quanto riescono a sopportare la spesa quindi in termini di competenza e cassa Ovviamente non si devono perdere di vista gli obiettivi di riscossione come abbiamo evidenziato anche nei consigli comunali precedenti Dobbiamo cercare di imprimere una maggiore forza sull'attività di riscossione anche perché questa mancata riscossione su alcuni tributi oltre che deve essere assolutamente attivata per un contrasto all'evasione fiscale ma anche perché questo danneggia poi il bilancio in generale perché non solo c'è una mancata entrata ma il lente viene doppiamente penalizzato attraverso il fondo crediti di dubbia esigibilità che è appunto uno strumento che viene utilizzato con l'armonizzazione per tutelare gli enti da possibili squilibri accantonando i crediti di difficile esazione quindi quando si ha difficoltà nella riscossione questi crediti vengono considerati di difficile esazione e quindi scatta tutto un meccanismo che penalizza molto il comune in termini di bilancio questo è uno sicuramente degli aspetti che da quando sono sindaco sicuramente è forse tra i principali aspetti che penalizza il comune di Fontanaliri perché abbiamo sempre avuto un fondo crediti di dubbia esigibilità e che poi dal 2019 in poi questo è aumentato per le note vicende che l'amministrazione precedente sempre da me preseduta con le cause legali e tributarie con lo stabilimento militare e con l'agenzia industria e difesa quando abbiamo attivato appunto quel tipo di accertamento abbiamo comunque dovuto in pratica il comune ha previsto un milione di euro nel 2019 di introidi che però siccome c'è una causa che è ancora in primo grado e per tante altre motivazioni insomma ancora non abbiamo effettivamente riscosso quei crediti e quindi questo viene automaticamente considerato un credito di difficile esazione così ho fatto l'esempio di quello più corposo ma c'è anche per esempio l'Ader di Frosinone ed altri insomma quindi tutta questa procedura nel complesso purtroppo penalizza il comune di Fontanaliri quindi quest'anno siamo dovuti intervenire con alcuni correttivi uno lo abbiamo evidenziato nei consigli comunali precedenti riguarda la modifica dell'IRPEF che è stata fatta a scaglioni così come concordato su invito dei sindacati provinciali ma comunque per alcune fasce di reddito abbiamo previsto un aumento che in alcuni casi è 0,6 in alcuni è 0,8 ma siamo stati costretti tra virgolette a dover intervenire sotto quell'aspetto poi diciamo ci sono delle precisazioni che volevo evidenziare per quanto riguarda alcune osservazioni che il nostro revisore che comunque ha espresso parere positivo ha comunque diciamo segnalato ci sono delle cose che poi noi abbiamo verificato e non è diciamo come è stato riportato dal revisore nello specifico per esempio il revisore ci dice che non abbiamo un programma degli incarichi dei COCOCO premesso che non abbiamo questi incarichi questo programma o regolamento non è diciamo fondamentale perché appunto non abbiamo incarichi di questo tipo nel nostro ente come abbiamo già detto non abbiamo una sezione dedicata al DUP questa cosa la evidenzieremo prossimamente e come abbiamo anche detto in sede di rendiconto è un aspetto che cercheremo appunto di raccogliere questo suggerimento del revisore poi per quanto riguarda il regolamento sugli incarichi di collaborazione autonoma appunto noi comunque ce l'abbiamo questo regolamento quindi diciamo su alcune cose non abbiamo diciamo visto la corrispondenza di quello che effettivamente ci aveva segnalato così come per esempio l'ente non è adempiente all'inserimento dei dati in BIDAP noi invece l'abbiamo fatto quindi insomma su alcune cose sicuramente diciamo anche poi a seguito di confronto insomma abbiamo evidenziato che diciamo il lente ha provveduto a queste segnalazioni che ci aveva fatto mi sono espresso male nel senso che il parere del revisore evidenzia delle tra virgolette criticità che però in realtà non sono criticità perché la gran parte le abbiamo fatte oppure non abbiamo previsto il contenzioso avendolo previsto nel consuntivo le due soccompenze che è probabile che abbiamo a breve non abbiamo ritenuto doverlo fare anche nel bilancio di previsione insomma sono tutte questioni ecco che magari con un in sede di confronto se ci fosse stato magari un confronto diretto ma non avremmo avuto queste segnalazioni nel parere poi un aspetto fondamentale che invece su questo anche il il revisore ha posto l'attenzione ma l'amministrazione ha tra virgolette scelto questa linea riguarda le sanzioni del codice della strada l'autovelox noi intendiamo come amministrazione riproporre l'autovelox che era stato fatto un servizio sperimentale nel 2020 lo vogliamo a fine 2020 lo vogliamo riproporre e lo vogliamo riproporre in modo continuativo cioè prevedendo almeno quattro appuntamenti mensili di autovelox perché continuano ad arrivare alla eh all'amministrazione forti segnalazioni su l'alta velocità della strada regionale quella strada è stata oggetto in passato di incidenti anche gravi e quindi noi su questo aspetto abbiamo scelto di intervenire ovviamente lo facciamo e lo faremo dandone informazione alla eh cittadinanza noi cercheremo daremo informazioni su sulle giornate di sicurezza stradale ma una volta che eh quel punto verrà identificato come un punto dove ci può essere l'autovelox ehm automaticamente gli automobilisti rallenteranno eh ovvio che ci saranno delle giornate soprattutto le prime dove saranno effettuate molte contravvenzioni noi nei giorni sperimentali eh abbiamo avuto una media di di cinquecento multe al giorno quindi eh di molte contravvenzioni effettuate ci furono tante polemiche eh ma probabilmente eh noi non dobbiamo sempre tra virgolette difendere e giustificare chi comunque non rispetta il codice della strada eh perché dice no il comune fa casa il comune fa prima di tutto sicurezza stradale poi è chiaro che le multe servono anche per vanno nei bilanci ma se attraverso le multe si migliorano i servizi si migliora la sicurezza della strada ma per quale motivo c'è dobbiamo essere contrari a priori ad uno strumento che è pensato per la sicurezza degli eh dei cittadini degli automobilisti e di chi abita e su quelle strade eh quindi questo è sicuramente uno degli aspetti che il il anche il revisore ha segnalato che diciamo eh abbiamo previsto eh centomila euro nel bilancio per l'autovelox perché vogliamo metterlo parecchie volte come abbiamo detto nella nostra relazione che abbiamo fatto anche eh di concerto insomma con eh la polizia locale e con gli uffici preposti e noi vogliamo eh fare questo servizio almeno quattro volte al mese da luglio fino a dicembre e quindi insomma riteniamo che eh la cifra che avremmo potuto mettere era anche superiore ma ci siamo tenuti bassi con la speranza che prima di tutto la gente non corre ma soprattutto piano piano capiscano che quella zona è una zona che è attenzionata e quindi eh va per corsa in modo più eh più attento insomma ecco eh quindi eh nella nel parire del revisore il revisore chiede segnala che non abbiamo previsti i criteri per l'utilizzo dei proventi della sanzione amministrative ma non è così perché con la delibera numero 46 la delibera di giunta comunale numero 46 del 25 maggio 2023 abbiamo pianificato e destinato secondo legge i proventi eventuali del codice della strada prevedendo la sicurezza stradale la segnaletica così come previsto dalla normativa così come ci segnala che non abbiamo inviato al ministero dell'interno eh l'utilizzo delle sanzioni del codice della strada l'abbiamo fatto anche perché eh proprio l'anno scorso abbiamo ricevuto una nota dalla corte dei conti che chiedeva questo e quindi l'abbiamo mandata al ministero e alla corte dei conti quindi assolutamente ehm abbiamo provveduto insomma a questa a questo tempimento ecco questo diciamo per per grandi linee ovviamente confermiamo l'attenzione verso i servizi sociali l'attenzione verso lo sport l'attenzione verso eh le manifestazioni eh che eh quest'anno eh ancora diciamo non abbiamo notizie di eh di concessioni eh di contributi da parte degli enti sovracomunali della regione del ministero speriamo di averli ma in ogni caso eh abbiamo previsto delle somme per garantire una un minimo di eh insomma di attività ricreativa per consentire alla cittadinanza insomma il i giusti momenti di di svago e anche insomma il programma estivo dovrà essere poi predisposto con l'assessorato allo spettacolo ma insomma il comune conferma una un'attenzione verso verso queste iniziative così come per le iniziative culturali per la scuola insomma abbiamo cercato di mantenere gli standard di servizi ehm resi dal comune eh agli stessi livelli sapendo che ovviamente negli anni il comune come abbiamo già detto altre volte ha comunque avuto una sensibile diminuzione del fondo di solidarietà comunale eh di circa trecentomila euro e questo è ovvio che eh diciamo un minimo di impatto sulle sull'ente c'è per forza di cose perché eh abbiamo comunque minore capacità insomma di di spesa perché le risorse sono diminuite ecco queste sono in linea generale il l'aspetto gli aspetti prioritari del del bilancio e quindi ecco per me presidente ho concluso bene ci sono interventi prego evangelisti grazie da quanto lei ha esposto sembrerebbe che la relazione del revisore sia piena di inesattezze la relazione del revisore è attendibile oppure no lei ha fatto un elenco di inesattezze io ho solamente detto le cose come stanno cioè il revisore su alcune cose che ci ha evidenziato perché il revisore quando fa diciamo la relazione evidenzia delle nel suo ruolo delle criticità o delle osservazioni che possono essere recepite dall'amministrazione ma di molte noi le avevamo già diciamo recepite cioè su alcune cose probabilmente lui non lo so non è che posso diciamo parlare per il revisore nel parere del revisore sicuramente su alcune cose sicuramente cioè non ha diciamo le le segnalazioni fatte non corrispondono alla alla realtà perché ci dice che non siamo ad ambienti all'inserimento dei dati e documenti in bid in bid in bid e l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto nei tempi di 31 maggio quindi i dati non li ha visti questo i dati non li ha avuti no non lo so penso che non lo so ci sia stato forse un non lo so se c'è stato un difetto di comunicazione oppure una però ripeti il codice della strada ci ha evidenziato il codice della strada e l'abbiamo fatta la delibera di giunta ci ha evidenziato che non abbiamo fatto i debiti commerciali c'è una delibera l'abbiamo fatta c'è l'accondonamento di 35 mila euro cioè su alcune cose cioè le abbiamo ripeto la relazione la relazione del revisore è datata 27 maggio quindi se ci sono atti precedenti dovrebbe averne preso atto se sono stati fatti successivamente va chiarito che sono 27 maggio va chiarito che sono stati fatti successivamente comunque per quanto mi riguarda visto che è un professionista e lo apprezzo perché ha fatto delle considerazioni puntuali io ho preso atto che relativamente alle entrate previste come sanzioni del codice della strada giustamente l'ordine di revisione dice che non ritiene la quantificazione dello stesso congla in relazione all'attuale andamento generale verso le infrazioni dell'autovelox l'organo di revisione dice inoltre che non è stato correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada l'organo revisore ha verificato che l'ente non ha provveduto alla certificazione del ministero dell'interno lo ha verificato ora voi state dicendo una cosa contraria dimostrate che quello che dite voi è esatto e quello che dice il revisore non è esatto l'organo di revisione non ritiene la quantificazione dei fondi di credito dubbi esigibilità in relazione all'andamento storico delle riscozioni rispetto all'accertamento non li ritiene congrui poi l'organo di revisione non ritiene la quantificazione del fondo credito dubbi esigibilità congrui in relazione all'andamento storico delle entrate rispetto all'accertamento e questo riguardante i proventi dai servizi pubblici e vendite dei beni andando avanti andando avanti fondo di riserva di competenza l'organo di revisione ha verificato che la prevasione del fondo di riserva ordinario iscritto nella missione 20 programma 1 titolo 1 magro aggregato 10 e binario monta A e qui l'importo non c'è non lo ha visto non lo avete fatto questo non corrisponde ai dati pagina 18 adesso il fondo di riserva è stato fatto non abbiamo fatto la cassa vincolata perché quella non è obbligatoria ma il fondo di riserva è stato fatto qui manca il dato quindi qualcuno se l'è dimenticato di fornirlo oppure lui non l'ha visto poi fondi per spese potenziali qui l'organo di revisione ha verificato che lo stanziamento della missione 20 programma 3 del fondo rischi contenziosi con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente non è congruo che cosa vuol dire cioè l'ente li ha i contenziosi su questo come ho detto anche nella relazione nell'esposizione questo è forse una diversità di vedute ma noi le due cause imminenti dove rischiavamo di perdere le abbiamo vincolate nel consuntivo sono due cause che sicuramente vanno diciamo entro il 31 di dicembre dovremo saremo potenzialmente soccombenti non ne abbiamo altre dove rischiamo nell'imminenza quindi abbiamo avendole accantonate nel consuntivo abbiamo ritenuto che non dovevamo diciamo mettere ulteriori fondi ma non è che mettendo questi ulteriori fondi il bilancio avrebbe subito un una criticità tale per cui non venivano i dati non erano congrui questa domanda non è che l'ho capita fino in fondo ma allora è ovvio che mettendo delle risorse sul fondo condensiosi si devono andare a fare delle scelte su magari limitare delle spese magari ridurre l'illuminazione pubblica si crea un deficit però siccome non è una cosa diciamo che a nostro avviso due cause ci sono che sono imminenti probabilmente le perdiamo ma le abbiamo già accantonate è già stata una scelta prudente la nostra il revisore però sottolinea che non è comodo l'organo di revisione ha verificato che l'ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2023 2025 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali e questo è grave un'altra cosa risulta un accantonamento di 35.505 euro al fondo di garanzia dei debiti commerciali l'organo di revisione dice che l'ente non ha accantonato le risorse le risorse sono state accantonate oppure no è certo sono state accantonate sono state accantonate a debiti commerciali quindi perché è stato accantonato noi l'abbiamo accantonato perché lo prevede la legge quindi lo abbiamo fatto e è pari alla cifra che è riportata c'è un po' di confusione ma soprattutto in questo bilancio ci sono delle entrate sovrastimate e delle spese sottostimate questo bilancio se noi lo confrontiamo con il rendiconto dell'anno precedente nel quale c'è una disponibilità di 5.861 euro se fossero stati fatti gli accantonamenti dovuti nelle dovute percentuali questo è un bilancio che va in deficit questi 100.000 euro di spese di entrate da multe automobilistiche 41.000 euro da diritti per costruire 100.000 euro di IMU che potenzialmente dovrebbe entrare queste sono somme messe lì appositamente per la quadratura è evidente anche perché il revisore alla fine dice che tutto fa un elenco di criticità fa un elenco di elementi che non quadrano e alla fine dice tutto sommato e vi invita a tenere a monitorare quelle entrate perché sa bene che se quelle entrate non si realizzano questo è un bilancio in deficit quindi vi state assumendo una grande responsabilità dicendo che percepirete 100.000 euro di multe 41.000 euro di oneri di urbanizzazione 100.000 euro di IMU che probabilmente considerato che qualcuno si è dimenticato di mettere a ruolo 72.500 euro di tassa sui rifiuti figuriamoci se voi incassate quello che non siete riusciti ad incassare fino ad oggi perché un problema di questo bilancio è proprio questo che voi anziché recuperare le somme che avete a credito preferite mettere le mani in tasca cittadina avete aumentato le tasse ma non riscuotete vi faccio presente una cosa voi andate a far spesa al mercato le bancarelle si lamentano che ci sono gli spuntisti che vengono ogni settimana nessuno passa a riscuotere un centesimo dagli spuntisti se qualcuno si impegnasse ad andare a riscuotere da quei commercianti entrerebbero dei soldi purtroppo non ci sta questa buona abitudine ad andare a riscuotere c'è piuttosto la buona abitudine ad imporre le tasse comunque queste sono le mie osservazioni per quanto riguarda i dati esposti nel bilancio mentre invece un'altra osservazione che io mi sento di fare è questa la volta scorsa io ho evidenziato che la nomina di Grimaldi quale vice sindaco a responsabile del servizio finanziario secondo il mio avviso non era corretta primo perché il comune ha due categorie che hanno delle competenze per cui potrebbero tranquillamente fare il responsabile del servizio finanziario secondo perché sebbene sia previsto dal regolamento che anche un componente dell'organo esecutivo sindaco vice sindaco possano fare il responsabile del servizio finanziario era in base al regolamento si doveva adottare una delibera che ho visto che avete adottato del contenimento della spesa questa delibera però ha la data del 31 maggio gli atti firmati precedentemente dal responsabile del servizio finanziario attuale e precedente sono legittimi certo lei ritiene assolutamente sì che anche in assenza della delibera di contenimento della spesa in assenza cioè in mancanza del rispetto del regolamento comunale che prevedeva che ogni anno in sede di approvazione del bilancio si dovesse fare questa delibera i pareri sono regolari allora noi intanto parliamo del 2023 sì parliamo del 2023 ok il la legge dice che anche al fine di diciamo di un risparmio di un contenimento della spesa si può conferire anche non ci sta scritto che è un requisito indispensabile quindi questo è una delle motivazioni che l'amministrazione può sostenere per questa scelta che abbiamo fatto noi cioè di assegnare la responsabilità del servizio ad un componente dell'esecutivo quindi a un amministratore ma la legge dice che comunque è fattibile anche senza il risparmio non so se se su questo ci capiamo cioè è uno degli aspetti è uno degli aspetti ma non è una condizione essenziale scusi allora il regolamento noi perché ce l'abbiamo il regolamento ce l'abbiamo tant'è vero che il regolamento lo lo ha questa deliberazione in sede di bilancio come dice la legge che questa va fatta va evidenziata in sede di bilancio la deliberazione l'abbiamo fatta e quindi nel caso specifico noi abbiamo diciamo osservato quello che prevede il regolamento e contestualmente la legge il regolamento lo abbiamo cambiato perché era contro la legge l'ho visto perché era quello che la prima volta io ho sostenuto cioè se la legge consente all'amministratore di poter fare il responsabile del procedimento cioè ci sono amministratori che sono responsabili del servizio dell'ufficio tecnico addirittura possono fare i responsabili del procedimento cioè possono rilasciare concessioni edilizie possono fare i responsabili del procedimento scusi allora perché adesso avete fatto questa delibera questa delibera perché l'avete fatta oggi? l'abbiamo fatta perché è una delle motivazioni che diciamo sosteniamo per la scelta del vice sindaco come responsabile del servizio è una delle motivazioni che c'è anche un risparmio perché c'è Cristian Grimaldi fa il responsabile del servizio a 0 euro come l'ho fatto io per tanti anni a 0 euro se l'avesse fatto un dipendente comunale al comune costava 11 mila euro quindi nel passato quando questa delibera non è stata fatta avete agito correttamente oppure no? sì anche quando non avete fatto la delibera però noi parliamo adesso del 2023 ho capito però poco tempo fa abbiamo approvato altri atti quindi e non c'era comunque quindi lei ritiene che è tutto a posto benissimo a proposito del contenimento della spesa c'è questo accertamento c'è questa delibera di giunta che dice che praticamente c'è un risparmio di 11 mila euro in considerazione del fatto che il responsabile del servizio finanziario è fatto dal vice sindaco allora con la delibera di giunta numero 1 del 4 gennaio 2023 sono state fatte le cosiddette pesature per cui l'indenità di posizione è stata riconosciuta per 11 mila euro 11 mila euro e 11 mila euro in base alla categoria D ufficio del personale ufficio finanziario mentre per la polizia municipale che è categoria C sono stati riconosciuti 4.750 euro per una disponibilità totale di 30.785 euro che dice la delibera da reatto e l'imposto per ogni singolo servizio pesatura dovranno essere rideterminati nei limiti della disponibilità del bilancio e dei vingoli di spesa corrente secondo la normativa vigente quindi voi avete ritenuto con questa delibera di giunta che avete risparmiato 11 mila euro giusto? si benissimo ma 11 mila euro più 11 mila euro più 11 mila euro sono 33 mila euro più 4750 sono 37 mila sono 37 mila voi avevate una disponibilità di 30 mila 785 quindi voi non avete cioè queste somme non le avete parametrate a questa disponibilità ma la somma ma il risparmio va calcolato sul potenziale non sul oggi abbiamo una situazione in cui abbiamo dei responsabili del servizio che sono diciamo dipendenti abbiamo due categorie D una categoria C e un amministratore ma non è sempre il quadro può variare cioè possono esserci tre amministratori quattro amministratori come per esempio quattro categorie D cioè noi per forza di cose dobbiamo visto che attualmente il vice sindaco è responsabile del servizio finanziario per quella responsabilità è prevista una indennità di 11 mila euro ma quelle indennità andavano parametrate a 30 mila 785 euro ma noi possiamo però prevedere questo io l'osservazione che diciamo anche ha una logica ma non possiamo prevederlo oggi dobbiamo farlo allo stato attuale potenzialmente quella categoria oggi se fosse stata ricoperta da un un dipendente comunale categoria D costa al comune 11 mila euro poi se per esempio ce ne stanno 4 D vanno riparametrate ma poi si ricalcolerà cioè questo è un discorso io ritengo che il conteggio che avete fatto è errato e cioè vi chiedo ma è stato verificato il revisore li ha verificati questi atti no io penso nel senso io credo che la delibera vada fatta su un ripeto in astratto e sulla categoria potenziale cioè lui va a ricoprire un ruolo che oggi viene riconosciuto per 11 mila euro e lui lo fa gratis quindi ad oggi il comune risparmia 11 mila euro è vero che se ci fosse stata una categoria di in questo momento attuale eccetera ci potrebbe essere un calcolo diverso però noi siccome le responsabilità non sono statiche noi non possiamo prevedere se per esempio domani il responsabile della polizia locale anziché essere C è un D non lo sappiamo perché in quel caso va riparametrato io ritengo che sia errato il calcolo riparametrazione quello che viene definito come riparametrazione è in termini anche di utilizzo per quante ore un dipendente viene assunto cioè se io ho un part time 12 ore la riduzione sarebbe stata evidente e rapportata non a 11 ma diventavano 4 mila euro 3 mila e 500 euro quindi di per sé quindi si rientra nel budget iniziale quindi voi ma quello ma quello che dice lei sindaco è giusto perché la valutazione va fatta sul potenziale cioè quello che io potenzialmente ho su quei servizi da prevedere quindi se è previsto che viene è stato pesato dal nucleo di valutazione quel servizio in 11 mila euro che domani mattina o il mese prossimo l'anno prossimo in virtù di servizi e di obiettivi diversi assegnati al servizio potrebbero diventare 16 potrebbero diventare 8 quindi quello che si sta dicendo a mio avviso non basta è corretto è corretto a mio giudizio no non è la valutazione ripeto va parametrata in virtù di quella che è l'esigenza del servizio degli obiettivi e di quant'altro viene pesato la nuova valutazione quest'anno il nuova valutazione ha pesato il servizio finanziario in 11 mila euro che poi venga 3 mila euro invece che 11 perché o niente la consigliera evangelisti penso che la domanda è corretta si rivolgeva la delibera di giunta giusto se il calcolo era corretto sì se il calcolo è corretto questo secondo me sì vedete che i 11 mila euro siano corretti sì è valutata per l'anno 2023 in 11 mila euro ma l'anno prossimo potrebbe essere ripeto 16 mila perché lei lo considera singolarmente ma se lei lo considera complessivamente rispetto alle altre valutazioni sono stati sporati 30 mila 785 euro nella delibera ci ha riportato anche che per la polizia municipale in categoria D sono 8 mila rotti euro invece sono stati presi in considerazione i 4 mila perché è categoria C appunto appunto quindi 33 più 4 fa ma io non ce l'ho quelle condizioni il peso del servizio è cosa diversa da quelle sono le condizioni reali del 2023 che io già ho programmato cioè io a 30 mila 700 euro non ci arriverò mai perché la mia programmazione già mi dice che la categoria D nel servizio di polizia locale non ce l'ho e quindi automaticamente non pagherò 8 mila ma pagherò 4 e nella categoria D e nella categoria D e nella categoria D qualora necessario io incarico il personale che ho con il 557 invece che 11 pago 3 4 quello che è diviso 12 diviso 36 per 12 cioè quello significa che mi devo regolare con il mio budget che ho punto io non sono d'accordo comunque va bene ci sono altre osservazioni? prego Battista su sì allora senza entrare nei rivoli dei conti anche perché non sono un tecnico faccio altro nella vita però vorrei fare qualche osservazione a tutela soprattutto dell'interesse dei nostri concittadini allora preso atto del parere favorevole del Revisore dei Conti io auspico sempre nell'interesse dei nostri concittadini che le larghe previsioni che l'obiettivo che vi siete prefissati con queste ottimistiche previsioni di incasso multe ater oneri concessori cioè vengano centrate queste previsioni in quanto anche un parziale deficit di queste vostre previsioni oltre che direttamente sul bilancio comunale sicuramente indirettamente poi si andranno a riversare sui cittadini sotto forma di tassazione come purtroppo abbiamo visto ultimamente che siete stati costretti a fare riguardo al mancato incasso degli accertamenti io vorrei suggerire al sindaco alla maggioranza se non sia il caso di potenziare il servizio tributi vuoi con una mobilità interna di personale vuoi con delle assunzioni con delle collaborazioni vuoi con un affidamento magari a delle società esterne che prestano questo servizio perché oltre a gravare poi sul bilancio indirettamente come tassazione si va a riversare sui cittadini e al tempo stesso pone una discriminazione tra cittadini onesti che pagano i tributi ed evasori che poi dopo i cinque anni scatta la prescrizione arrivederci e grazie un ultimo suggerimento che vorrei fare sempre a tutela dell'interesse dei nostri cittadini se nei rivoli del bilancio ci sia la possibilità di prevedere un minimo contributo anche minimo ma soprattutto sotto forma di segnale verso quelle famiglie che utilizzano il servizio asilo nido è un segnale di vicinanza al mondo dell'infanzia a favore delle giovani coppie in un momento di difficoltà economica poi sulla sempre sul parere sulla relazione del revisore dei conti sindaco dopo leggo a proposito del PNRR di cui ne abbiamo parlato anche nelle altre occasioni il revisore scrive quanto l'organo di revisione ha verificato che l'ente non ha dedicato una sezione del DUP al PNRR vorrei sapere se questo corrisponde al vero oppure se è un'osservazione estemporanea del revisore come abbiamo detto già anche la volta scorsa questa è una segnalazione che corrisponde a vero tant'è vero che abbiamo recepito questo segnale e alla prima occasione cercheremo di inserire un capitolo faremo una variazione per inserire appunto un capitolo dedicato al PNRR quindi ad oggi però è una delle osservazioni che effettivamente corrisponde alla realtà e noi prendiamo l'impegno di diciamo integrare alla prima occasione a riguardo io ti segnalo che diversi piccoli comuni che adesso mi passa l'ho letto sul giornale eccetera del Viterbese hanno piccoli comuni mi viene in mente Civita Castellana eccetera hanno preso dei finanziamenti di svariate centinaia di migliaia d'euro a tutela dei centri storici e soprattutto per evitare lo spopolamento dei centri storici quindi io vi invito a riguardo a se c'è la possibilità nell'ambito dei banti previsti del PNRR di inserire dei progetti a favore del nostro territorio e poi ecco il riferimento al centro storico dove è possibile onde riversare sul nostro territorio i benefici che ci vengono dati da questa occasione unica grazie sì solamente per alla luce della delle osservazioni che sono state fatte visto che è presente il responsabile del servizio finanziario chiedo se conferma il parere reso anche in questa sede no al microfono cortesiamente sì conferma grazie possiamo procedere all'approvazione del secondo punto all'ordine del giorno bilancio di previsione 2023-2025 chi si astiene chi è favorevole chi è contrario vi chiedo di votare per l'immediata esecutività chi si astiene chi è favorevole chi è contrario abbiamo un terzo punto all'ordine del giorno come integrazione all'ordine del giorno di oggi che riguarda il parco Serena Mollicone per l'approvazione del progetto in variante urbanistica la parola al sindaco sì questa sera dobbiamo solamente approvare il progetto dal punto di vista della variante urbanistica noi se vi ricordate il 18 novembre del 2022 abbiamo approvato il progetto definitivo esecutivo e lo abbiamo fatto in forma ufficiale in un consiglio comunale straordinario al centro polifunzionale la regione Lazio ha chiesto però che questo progetto fosse approvato anche dal punto di vista urbanistico in che senso poiché allo stato attuale quella zona è una zona agricola e mentre invece prevedendoci la realizzazione di un parco che poi abbiamo spiegato non è un parco vero e proprio ma un luogo di memoria per consentire a tutti quelli che vogliono ricordare la povera ragazza scomparsa di andare quindi più un luogo di memoria che non un luogo di ritrovo comunque è un'opera che rientra nella categoria dei servizi quindi andiamo ad approvare questo cambio di destinazione d'uso di quella porzione di terreno cioè non sarà più destinata a zona agricola ma a zona servizi perché rientra sotto il 5% questo complessivo questa può essere fatta come variante urbanistica approvata dal consiglio comunale in questo modo avremo il silenzio assenso del regione Lazio e quindi non non dobbiamo tra virgolette fare un ulteriore passaggio in regione quindi questo il progetto resta quello che è stato presentato già questa sera presentiamo approviamo solo la variante urbanistica del progetto presentato e approvato nel 2022 ci sono interventi prego evangelisti allora ho ripreso la trascrizione del consiglio comunale del novembre 2022 perché ricordo io me lo ricordo benissimo che sono stata l'unica a prendere la parola in quell'atmosfera ho avuto il coraggio di dirvi che quello che stavate facendo non era regolare perché stavate approvando un progetto definitivo quando il decreto del presidente della repubblica 8 giugno 2001 numero 327 a proposito dei vincoli derivanti da atti diversi ai piani urbanistici generali recita chiaramente che se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto espressamente se ne di atto su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto mediante una conferenza di servizi un accordo di programma un'intesa ovvero un altro atto anche di natura territoriale che in base alla legislazione vigente comporti la variante del piano urbanistico praticamente a novembre è stato approvato un progetto che sapevate già che non si poteva realizzare perché l'ho letto io io che non sono un geomero un ingegnere ho letto sulla relazione dell'ingegnere bianchi che quella era zona agricola sulla quale non era prevista la realizzazione parco memoria quello come lei lo vuole chiamare praticamente avete fatto prima qualcosa che si doveva fare dopo o quantomeno secondo me non avete ancora fatto tutti gli atti che dovevate fare quindi voi avete fatto quella bella manifestazione per mettervi in mostra ma praticamente gli atti non erano completi e lo dimostrate adesso che a distanza di sei mesi ritorniamo ad approvare la variante al piano regolatore ma perché non l'avete fatta prima perché abbiamo approvato prima il progetto immediatamente esecutivo e adesso facciamo la variante e poi gli espropri e poi le consultazioni gli enti della strada cioè siamo sicuri io rimango sempre perplessa sulla realizzazione di questo progetto e a proposito le faccio una domanda ho visto in una recente recentissima determina dell'ufficio tecnico che finalmente all'interno c'è che il professionista che ha avuto l'incario ha reso la dichiarazione circa i requisiti di cui all'articolo 42 e l'ottanta del decreto legislativo 50 2016 il tecnico che ha avuto l'incarico della realizzazione del parco Serena Mollicone l'ha rilasciata la dichiarazione? Questo non l'ho verificato ma immagino di sì come tutti i tecnici che ricevono gli incarichi gentilmente metta verbale che vorrei vedere questa dichiarazione appena avete la disponibilità questa la possiamo inviare non domani ma dopo domani dopo domani gliela invieremo perché sicuramente c'è poiché va bene non è riportata no non significa però che non è riportata nella determina non ci sta no ci sta mercoledì va bene se gliela mandiamo però perché dobbiamo dire che non c'è no 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 perché non l'ho trovata una cosa nello scorso consiglio comunale ho lasciato della documentazione è stata inviata ho lasciato un plico al segretario che doveva essere inviato agli organi competenti è stata quella documentazione è stata inviata a chiunque mi voglia rispondere allora la documentazione non è stata ancora inviata anche perché non si capisce bene dalla trascrizione sempre della seduta che mi sono andato a rileggere chi deve fare che cosa e quali atti bisogna trasmettere se lei ritiene che sia necessario mi deve indicare a chi la devo mandare e quale documentazione devo mandare e chi deve firmare questa trasmissione la documentazione è il plico che le ho consegnato a chi io non posso prendere quel plico lo metto in busta e lo spedisco non so a chi a firma di chi chiedendo che cosa va bene se gentilmente può essere più precisa io le posso predisporre anzi le faccio predisporre dagli uffici la nota di trasmissione che lei gentilmente dovrà sottoscrivere chiedo scusa su questo argomento chiedo scusa non ho solo una precisazione perché questa è una cosa che cortesemente specificare anche chi deve firmare chi firma e a chi ci sono altri interventi a riguardo prego Battista allora riguardo alla realizzazione del parco Serena Molligone non non entro nel merito della della scelta dell'ubicazione premesso che esprimo parere favorevole alla realizzazione quindi voterò a favore dell'oggetto di cui stiamo di cui stiamo parlando quindi senza entrare nella scelta dell'ubicazione vorrei segnalare visto che è un periodo che il nostro territorio nazionale è stato oggetto di problematiche di natura ambientale alluvioni eccetera che in quella quella zona lì alcuni anni fa c'è stata esondazione del fiume Liri arrivando l'acqua anche sulla sulla strada nazionale quindi questo penso che va sia da tenere opportunamente in considerazione nella realizzazione del parco stesso quindi esprimo voto favorevole alla realizzazione del parco e faccio una proposta all'amministrazione al posto di quella lapide che mi ricordo personalmente quando ero assessore a servizi sociali con l'amministrazione Pistilli decidemmo di realizzare lì di realizzare in questo parco una scultura o un'opera d'arte possibilmente realizzata da un da un artista sociaro a ricordo della memoria di Serena Molligone e di tutte le donne oggetto di vittime di di violenza questo è quanto io propongo all'amministrazione grazie su questo allora praticamente l'osservazione diciamo è condivisibile ma c'è una precisazione da fare in effetti quando abbiamo cominciato a a lavorare su l'idea di questo parco memoria luogo di memoria per Serena Molligone ci siamo confrontati con i familiari e noi avevamo pensato anche oltre a quella lapide che abbiamo capito è diciamo come posso dire ha un alto valore affettivo per i familiari di inserire comunque un richiamo alle vittime di violenza se vi ricordate ma sicuramente vi ricordate quando abbiamo fatto una commemorazione che c'era la giornalista Angela Nicoletti lei stessa propose anche di far diventare quel luogo come memoria per tutte le vittime di violenza eccetera successivamente però i familiari ci hanno espressamente diciamo caldeggiato di non di non calcare su questo tema ma volevano solamente un luogo di di memoria per Serena Mollicone non accostandola però in maniera così diretta alle vittime di violenza o alle donne vittime di violenza in generale perché l'idea ecco magari noi avevamo pensato ad esempio a una panchina rossa ma poteva essere una scultura l'idea assolutamente valida ci è stato tra virgolette fatto capire che non avevano questo questo desiderio e noi ci siamo sentiti nella redazione poi del progetto di rispettare le volontà dei familiari e quindi ecco per quanto la proposta è assolutamente ripeto valida e condivisibile in questo aspetto non possiamo accoglierla per le motivazioni che ho esposto prima cioè perché i familiari ci hanno fatto questa esplicita richiesta e ci sembra doveroso rispettare le volontà dei familiari prendo atto di quello che mi hai riferito io mi auguro penso che la proposta sia una proposta lecita e non scandalosa a parte che la lapide nessuno io ho condiviso con il padre Serena Molligone quella scelta l'abbiamo quella scelta l'abbiamo dotata assieme quindi però io mi auguro semplicemente che la sensibilità degli amministratori di Fontanaliri che nel nostro territorio la povera Serena è stata è stata ritrovata venga venga presa anche dagli amministratori venga presa come esempio anche dagli amministratori di Arce il suo paese nativo bene vi chiedo di votare per il terzo punto all'ordine del giorno Parco Serena Molligone approvazione progetto in variante urbanistica chi si astiene? chi è favorevole? unanimità? chi è contrario? vi chiedo di votare per l'immediata esecutività chi si astiene? chi è favorevole? approviamo il terzo punto all'ordine del giorno l'abbiamo approvato quindi vi auguro una buona serata dichiaro chiuso il consiglio comunale buona serata a tutti